benvenuti a meteo giuliaci.it domani giovedì 28 febbraio un po di nuvole al centro nord ma saranno nuvole innocue non porteranno pioggia nuvole anche sulla sardegna per avvicinarsi di una perturbazione dalla spagna ma vediamo l'immagine del satellite virtuale vedete appunto le nuvole al centro nord che fanno parte di un sistema nuvoloso in movimento al nord delle alpi e nuvole sulla sardegna per una perturbazione giunta dalla spagna bene ma vediamo allora il tempo che farà domani vedete appunto queste nuvole che interessano soprattutto il centro nord dell'italia e soprattutto la regione di nord ovest ma senza piogge nuvole anche sulle isole maggiori andiamo a vedere le temperature temperature massime super giustazionari intorno 8 14 gradi al nord 10 14 al centro 12 14 al sud e sull'isole maggiore bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno